Ciao a tutti, sono Ciro Mariniello, ho fumato per circa 15 anni, poi ho capito che fumare non è un passatempo ma è qualcosa che fa molto male, molto male alla salute. Quando è nato mio figlio ho deciso di smettere e di dedicare la mia vita a lui e vivere appieno la mia vita.